Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo al manacco di bellezza 11 ottobre Leonardo Piccinini Piero Maranghi Leonardo pensavamo a Cavandoli purtroppo non parliamo della linea di Cavandoli no neanche della linea Sykes-Picot no non parliamo neanche della linea 4 della metropolitana che domani a Milano che domani verrà inaugurata poi non so allora gli altri cantieri vabbè lasciamo perdere ma parliamo di che linea Leonardo della Mason-Dixon line che viene tracciata l'11 ottobre ma del 1767 secondo me forse sono anche gli anni in cui è iniziata la costruzione della metropolitana 4 ma questa è un'altra storia c'è una beccaria senti dove siamo? Delaware Pennsylvania Pennsylvania che anche lì speriamo tra qualche Pennsylvania Maryland e West Virginia e questa linea di confine tra questi stati assumerà una grande rilevanza quando nel 1860 perché dopo l'elezione di Abramo Lincoln alle elezioni presidenziali ci sarà la guerra esploderà la guerra di secessione degli stati del sud contro quelli del nord cioè contro gli abolizionisti da parte invece di quelli che volevano mantenere la schiavitù e quindi questa linea diventerà la demarcazione tra libertà e schiavitù tra nord e sud degli states allora andiamo con ordine non esagerando però cioè non andiamo al 1492 cioè la scoperta dell'America diciamo che possiamo andare al 1632 ci sono ancora di mezzo i re inglesi Charles I Charles I ha concesso a George Calver l'autorizzazione per fondare un insediamento nelle colonie americane e questo insediamento è tra il fiume Potomac a sud e il quarantesimo parallelo a nord e questo insediamento si chiama Maryland Calvert è un pari d'Inghilterra che si è convertito al cattolicesimo e vuole creare nel nuovo mondo un rifugio per tutti i cattolici che se ne vanno dalle persecuzioni religiose e per ringraziarsi il re chiama questo insediamento Maryland cioè terra di Maria perché la moglie del re si chiamava Maria di Borbone probabilmente anche lei era cattolica Enrichetta Maria di Borbone Enrichetta ti piace il nome Enrichetta? molto volevo usarlo anche per me io ogni tanto quando esco la sera un po' truccato mi faccio chiamare Enrichetta senti per quasi 50 anni i Calvert regnano indisturbati sulla regione poi poi arriva un altro cognome un altro nome che avrebbe lasciato delle tracce 1681 chi è? William Penn figlio dell'ammiraglio omonimo che era invece un adepto della congregazione religiosa dei Quacheri 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 se volete Leonardo X potremmo anche esibire nel ballo del Qua Qua dopo che l'ha fatto John Travolta si non è andata benissimo le scarpe va bene questa è un'altra storia senti Penn vuole fondare anche lui la sua colonia dove il pacifismo quacquero possa proliferare senza temere ostilità e persecuzioni da altri credo religiosi poi devo dire tutti vanno in America per essere salvi dalle persecuzioni ma gli indiani non li avevano visti c'era un piccolo dettaglio spiace spiazze senti sul trono a questo punto è arrivato Carlo II tutta la barucca boccolosa boccoloso Stuart che non nel senso di no no Stuart della casa Stuart donnaiolo impenitente detto il monarca allegro per il suo carattere e tanto altro cordiale affabile ed ecco che da Penn la Pennsylvania Penn Pennsylvania che però c'è un problema che si sovrappongono lui probabilmente era un po' ubriaco mentre fa la linea va giù e quindi si sovrappone questa patente con quella del Maryland la mappa era quel che era la descrizione del confine non è precisa e chiaramente si crea subito lo scompiglio la zenzania tra gli eredi Calvert e i Penn stiamo parlando di piccole correzioni perché è una differenza di soli 0,04 gradi nel calcolo della posizione del quarantesimo parallelo però insomma crea nel dettaglio una striscia di terra di 45 chilometri in cui le due linee di confine si sovrappongono e il problema principale consiste nel fatto che idealmente la linea di confine dovrebbe passare a sud di Newcastle comprendendo la città di Philadelphia che William Penn ha già scelto come sua capitale ma in realtà la linea di confine passa alcune miglia a nord quindi lui si è perso la capitale non è contentissimo allora per ovviare al pasticciaccio nel 1682 Boccolone Cairo II non trova meglio che assegnare le tre conte necessari a Penn per includere l'area fino a Newcastle nei possedimenti appunto della Pennsylvania però la coperta è corta perché i calver gli eredi non è che sono proprio contenti e in particolare c'è il quinto barone di Baltimore che questo è un titolo proprio dato così che dice no quella terra lì l'è mia quindi cattolici e quaccheri è bello perché si ripeteva oltreoceano la divisione aristocratica che poi sarebbe stata annullata dall'indipendenza americana per cui questo era il quinto barone di Baltimore hai visto ma va well shut my mouth and call me cornpone if it ain't the little old self eyes come in eyes come in but my head is bending hello charge get back there you dang yankee great hornetones I'm up north gotta burn my boots they touched yankee soil allora fin verso la fine degli anni 10 del 1700 la situazione si mantiene più o meno stabile però alla fine i coloni del Maryland cominciano a creare dei nuovi insediamenti siamo sulle rive del fiume Susqueanna a proposito di quelli che già ci abitavano e a quel punto i pensilvaniani hanno l'orecchia punta sono come i venusiani o i vulcaniani costruiscono un piccolo avamposto sul torrente Codorus mettendo le basi per quella che poi pomposamente verrà battezzata la guerra di Cresap dal nome di un colono del Maryland sono storie Thomas Cresap paletti di confine siamo senti cosa accade dopo quasi 20 anni i piccoli dispettucci alla fine i re si susseguono Giorgio II che è figlio di Giorgio I di Hannover ricordiamolo il primo re tedesco d'Inghilterra mette fine alla disputa perché il 25 maggio del 1738 si firma a Londra un trattato di pace che consegna a Filadelfia giustamente ai pensilvaniani i pensilvaniani sono finalmente contenti però sul tavolo resta da capire come sia andato storto il tracciamento di quella prima linea di confine nel 1763 i Calver e i Penn assoldano due astronomi Charles Mason che non è il killer preferato dalla povera Sharon Tate e Jeremiah Dixon alla modica cifra di 3512 sterline parliamo di oltre mezzo milione di sterline attuali quindi una buona consulenza che durante il corso del lavoro si rendono conto che la quantità di errori di tracciamento è molto superiore e sistematica a quella usuale per l'epoca Mason e Dixon si tengono in contatto con l'astronomo reale Neville Muskeline e altri membri della società reale scientifica britannica c'è Henry Cavendish il titico Cavendish che suggerisce che forse il problema potrebbe essere causato dall'attrazione gravitazionale di Battiato dei monti dei famosi monti la colpa è degli allegani dei monti allegani che hanno probabilmente influito sulle allegani sulle apparecchiature di misurazione ottobre 1767 si arriva al Dunker River a circa 390 chilometri dalla partenza Mason e Dixon sono costretti a fermarsi perché le loro guide irochesi si rifiutano di procedere oltre a causa della stato di guerra che c'era tra la tribù degli irochesi e quella dei Lenap e l'indagine di Mason e Dixon finisce qui però il portafoglio era pieno sì allora non Mason Half Million Dixon hanno avuto l'onore o l'onere di sentire il proprio nome associato a quella linea di confine che in realtà hanno contribuito a tracciare noi oggi all'almanaco rendiamo giustizia questi due grandi personaggi Mason e Dixon c'è anche la schiuma da barba allora la denominazione entra Mason e Dixon nell'uso comune nel 1820 perché viene firmato il compromesso del Missouri del Missouri quando la richiesta di questo territorio di entrare nell'unione si scontra col fatto che gli stati liberi del nord sono contrari alla schiavitù mentre quelli del sud chiaramente sono favorevoli e al momento della discussione la situazione al senato è di parità 11 stati a 11 e solo il lavoro di compromesso del rappresentante del Kentucky quello che faceva il chicken il chicken Harry Clay salva la situazione e il Missouri entra come eccezione alla regola da quel momento in poi però nessun altro stato schiavista potrà mai più essere ammesso le tensioni tra nord e sud sfoceranno nella guerra civile quando appunto l'abbiamo detto la Mason-Dixon line diventerà il simbolo della frattura tra stati unionisti e stati di schiavitù ma ancora oggi se qualcuno fosse interessato e volesse qualche avvocato volesse rimpugnare la linea e i suoi cippi di confine importati dalla Gran Bretagna posti a un miglio di distanza l'uno dall'altro lungo tutto il percorso rappresentano il punto di incontro e separazione tra la cultura industriale del nord e quella rurale dei dei Dixie i Dixie i Dixie e noi non avendo capito niente di questa storia ci congediamo con un ultimo contributo di Dixie di Dixie potenza del pop potenza dei Beatles potenza di John Lennon ne abbiamo avuto all'ennesima dimostrazione la sera del 9 agosto scorso siamo alla finale del Beach Volley tra il Canada e il Brasile alle Olimpiadi di Parigi Piero ha guardato tutte le partite certo mi piace lo sport non se ne è persa una lui neanche uno ne è guaibato il suo sogno sarebbe partecipare a qualche disciplina ci considera degli incontri che amiamo lo sport Leonardo terzo set 11-8 per il Brasile c'è un punto controverso del Canada stavano a menasse le quattro giocatrici incominciano a battibeccare sotto la rete e l'arbitro in vano cerca di dividerle il gioco riprende la canadese Brandy scura in volto va per battere e a quel punto il DJ dello stadio mette Imagine di John Lennon e lei si mette a ridere tutti scoppiano in un grande applauso e il pubblico incomincia a cantare scoppia la pace potenza della musica potenza dell'amore allora il Brasile ha vinto il terzo set si è preso la medaglia d'oro uno dei tre ori del Brasile a queste Olimpiadi tutti femminili tra l'altro e perché parliamo di questa partita? parliamo di Imagine perché oggi e quindi restiamo negli States anche se l'autore è un inglese è l'anniversario dell'uscita del singolo Imagine negli Stati Uniti che avviene l'11 ottobre del 1971 un mese dopo la pubblicazione dell'album omonimo questo è il singolo negli Stati Uniti prima che in Inghilterra questa cosa non deve stupire John Lennon non aveva ancora la cittadinanza americana arriverà concessa solo nel 76 ma da un paio di mesi si era trasferito a vivere a New York e lì sappiamo verrà ucciso quel giorno in fauso del 1980 in quell'11 ottobre del 1971 John Lennon aveva da poco compiuto 31 anni questo 45 giri raggiunge il terzo posto nella hit parade americana il primo nella hit parade italiana per una settimana tra l'11 e il 18 marzo del 1972 è il più grande successo commerciale di John Lennon come solista i Beatles si sono divisi ed è forse o non forse è quasi certamente la sua canzone più popolare a proposito di Beatles dall'immensa quantità di registrazione legate al progetto Let It Be è saltato fuori qualche anno fa un esercizio al pianoforte di Lennon dal quale si evince che la canzone gli girava già in testa almeno dal 1969 Imagine firmata dal solo John Lennon ma in una delle sue ultime interviste l'autore raccontò che in realtà e questo lui era sempre molto generoso verso di lei lo diventava sempre di più si è vero che in realtà la canzone avrebbe dovuto essere firmata Lennon Ono Yoko Ono perché l'idea generativa del testo immagina che succeda questo e quello gli era stata suggerita proprio da lei da un libro d'artista di Yoko Ono e lui poi si scherniva dicendo io a quel tempo ero troppo macio per riconoscerlo e sappiamo che sei anni fa Yoko Ono ha pubblicato un libro sulla registrazione dell'album e del brano con litri e litri di fotografie disegni inediti c'è un pianoforte prodotto dalla Stanway Imagine bianco come il pianoforte bianco che appunto nel 71 John Lennon dedicò a Yoko Ono e pensate questo pianoforte lui lo suona appunto nel videoclip dell'epoca è stato oggetto ancora di polemiche recentemente perché Lady Gaga lo suona Lady Gaga con le calze a rete in una fotografia scattata nel 2010 scattata e pubblicata da chi? Da Sean Lennon il figlio di John e Yoko sul suo profilo Twitter allora ci sono i fan dei Beatles che dice come osa Lady Gaga profanare questo strumento mitico e Sean Lennon ha risposto perché si sono arrabbiati così tanto i pianoforti sono fatti per essere suonati beh è vero il pianoforte di Liszt non è che non lo suoni più ma certo lo suonerà tra l'altro proprio il pianoforte di Liszt Giovanni Bertolazzi grandissimo astrettissimo vi faremo sapere ma questa è un'altra storia ciao grandissimo Giovanni Bertolazzi e quindi questo è solo uno dei tantissimi aneddoti episodi che in questi anni hanno girato intorno a Imagine che è non è solo un brano musicale è un inno è un inno di speranza di utopia tanta parte del mondo anche se non piace proprio a tutti no poi si può peggiorare diciamo perché immagina che non ci siano proprietà che non ci siano paesi non è difficile farlo nulla per cui uccidere o morire e nessuna religione pure allora quattro anni fa Susanna veniamo un po' alle cose nostre al nostro giardino zoologico ma parlerei proprio di giardino zoologico Susanna Ceccai di classe 1987 europarlamentare della Lega protestò contro il fatto che nella sua cittadina Cascina quella della battaglia della battaglia avevano deciso di cantare Imagine nella scuola elementare invece delle canzoni di Natale potrebbe anche essere un argomento condivisibile poi bisogna vedere quali canzoni di Natale perché ce ne sono alcune che forse non andrebbero cantate e la Ceccai dimotivò la sua avversione dicendo che un mondo senza religioni confini proprietà privata l'avevano già realizzato in Unione Sovietica in Unione Sovietica c'erano i confini c'erano le religioni e c'era pure la proprietà privata di pochi questo per dire che questa cosa era già stata fatta notare a John Lennon e lui aveva risposto che non era vero cioè lui aveva risposto che il socialismo di cui cantava lui non era certo quello della Russia o quello della Cina oh ma poi è una canzone eh ma vai Beatles e i Rolling Stones possiamo sognare possiamo sognare e la Meloni quando rispondeva ancora alle domande nelle interviste a Telese che le chiedeva cosa lei pensasse di Imagine lei rispose patrioticamente così non è una canzone il cui testo mi appassiona insomma dice che non ci siano le religioni non ci siano le nazioni è l'inno dell'omologazione mondialista io francamente sto da un'altra parte per me l'identità è un valore poi è una bellissima canzone e aggiunto se uno diciamo non capisse l'inglese e non sentisse il testo la canzone è fantastica tanto meglio forse andrebbero sentite le canzoni apprezzati i testi senza come dire dare un valore no senza toglierle dal contesto in cui sono state prodotte tra l'altro certo qual era quel mondo del 1971 la guerra in Vietnam cerchiamo di immaginare un po' che stiamo anche meglio ma non è questione di criticare guardi per me l'arte non si critica mai l'arte è arte in quanto tale ti può piacere ti può non piacere Imagine è una canzone bellissima poi se mi si chiede che cosa penso del testo non mi rappresenta sarò libero di dirlo alle nostre spalle il libro dell'almanacco è nascosto dai doni il salame finto di Zanichelli e la civiltà del rinascimento in Italia dell'amico Fulquet oro incenso e mirra io vorrei anche la birra ma questa è un'altra storia e venerdè che l'è sempre venerdè aver al latte e znoc che vuol dire avere il latte alle ginocchia perché poi si dice avere il latte alle ginocchia è noia fastidio disturbo nei confronti di una persona noi siamo persone ma perché proprio il latte è perché il latte ma non lo so senti questo è il nostro pensierino per il venerdè il latte alle ginocchia il latte alle ginocchia e tu? domani e dopodomani tornano le giornate d'autunno 2024 organizzate dal FAI Fondo per l'Ambiente Italiano stiamo parlando di aperture di beni culturali e paesaggistici visite guidate in 700 luoghi d'arte grazie alla mobilitazione di tanti volontari potete trovare il programma completo su www.giornatefai.it per fare alcuni esempi a Milano si potrà visitare Palazzo Melzi dei Rivi oggi sede della Fondazione Cariplo con la sua preziosa collezione Palazzo Cusani a Roma tour straordinario del Gianicolo a Napoli visite del Palazzo San Giacomo sede del Comune radici ottocentesche ma anche interventi moderni negli anni 30 del 900 di Marcello Piacentini in ogni contrada d'Italia c'è un bene culturale aperto dal FAI ricordatevelo in ogni contrada d'Italia questo è il FAI se poi non riuscite avete dei problemi a cercarli chiamate me che vi rispondo e a questo punto chi cambia canale è un Leonardo se lo merita oggi al manacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simioni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini prodotto da Piero Maranghi una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Grazie a tutti